Salve ragazzi, è un piacere avervi qui, se siete arrivati a questo video, per caso, vi consiglio di recuperarvi la prima parte. Per chi invece l'aspettava, tra poco si comincia per cui, mettetevi comodi e regolate l'audio in modo confortevole, perché ad un certo punto i timpani potrebbero esplodere, io vi ho avvisato. Sì, 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 Bene, la base orda è stata messa a nuovo, diciamo che questa è l'evoluzione di una base orda che ho visto da un youtuber canadese Zio Genosis, di cui vi lascio il link del canale in descrizione, anche lui affronta 7 days to die in modo particolare. Sì, 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 Sì,